Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Oggi vediamo le novità introdotte nell'ultima release di Premiere Pro vale a dire la numero 2023, la versione rilasciata lo scorso 11 ottobre 2022 Sul sito www.fabioambrosi.it c'è un articolo con le novità sintetizzate però noi in questo video vogliamo andarle a vedere una ad una e capire che cosa è cambiato in Premiere Spoiler! Non è cambiato assolutamente niente Premiere ha migliorato molto le prestazioni Sì, è stata introdotta qualche funzione che riguarda la grafica essenziale questo sì, però di per sé non sono stati introdotti strumenti rivoluzionari in Premiere che facciano dire wow che figata No, è una versione così di passaggio che corregge molti bug migliora le prestazioni soprattutto sui sistemi Apple e aggiunge qualche miglioria alla gestione della grafica e di questo noi ci occupiamo in questo tutorial soprattutto Iniziamo, facciamo finta di voler creare della grafica scriviamo un testo www.fabioambrosi.it per esempio un testo classico, un bold con uno stroke quindi con una traccia esterna sapete tutti cos'è la traccia in questione quindi selezioniamo il testo, posso aumentare e diminuire la traccia ovvero il bordo del nostro testo per questa dimostrazione vado ad ingrandire molto perché voglio mostrarvi la novità introdotta in questa versione che è la possibilità di gestire molto meglio la traccia di una grafica qualsiasi quello che stiamo facendo qui riguarda il testo ma riguarda anche le forme geometriche se io per esempio andassi a creare un quadrato o meglio ancora un rettangolo eccolo qui ora chiaramente al nostro rettangolo diamo un po' delle caratteristiche differenti cambiamo il colore, facciamolo verde la traccia esterna facciamo la bianca per esempio ecco il discorso che stiamo per vedere è lo stesso qual è la novità introdotta in questa release di Adobe Premiere Pro la 2023 è la possibilità di aggiungere i tratti in tre modalità differenti al di fuori, all'interno o al centro che cosa vuol dire? guardate se io vado ad aggiungere una traccia con la modalità fuori all'esterno meglio ancora comunque è la prima modalità se aggiungete una traccia in modalità esterna vedete che la traccia viene semplicemente aggiunta alla vostra forma geometrica questo può essere utile se volete mantenere quello che è all'interno della forma geometrica di una grandezza costante ma volete aggiungere appunto un bordo che vada ad aggiungersi alla forma geometrica stessa l'altra modalità, quella interna quindi aggiungere il tratto internamente alla forma geometrica o al testo procede in senso opposto vale a dire va ad aggiungere la traccia non più all'esterno ma all'interno la terza modalità è poi quella chiamata appunto al centro quindi center in altre parole sia all'esterno che all'interno quando aggiungo un bordo una traccia o uno stroke come preferite chiamarla questa viene aggiunta contemporaneamente all'interno e all'esterno in altre parole partendo dal punto centrale ecco del bordo della nostra forma geometrica questo vale anche chiaramente per il testo se ho un testo posso andare a modificare lo stroke eccolo qui e scegliere come gestire lo stroke se aggiungerlo sottrarlo in altre parole quindi aggiungerlo verso l'interno o gestirlo al centro questo fino ad oggi era possibile farlo in software come credo photoshop sicuramente in after effect ma non era possibile fare queste cose in premier pro la versione 2023 del software aggiunge questa possibilità bene altra novità riguarda l'allineamento se voi gestite una grafica essenziale avete molti elementi con cui lavorare quindi per esempio avete del testo avete una forma geometrica che adesso per praticità andremo a fare un pochettino più piccina e magari andiamo a diminuire anche un po' il bordo ok facciamo finito di avere anche un'altra forma geometrica quindi per esempio abbiamo un ellisse ok graphic, new layer, ellisse eccola qua cambiamo il colore per non fare tutto uguale facciamola non so blu ok ok abbiamo tre oggetti e vogliamo allinearli come avremmo dovuto operare fino ad oggi beh sì è vero anche nella versione 2022 di premier pro c'era la possibilità di allineare gli oggetti quindi allinearli a sinistra allinearli al centro in senso orizzontale o in alto oppure in alto in al centro verticalmente oppure in basso in altre parole ecco quello che accadeva era questo no? potevamo prendere il nostro testo e allinearlo rispetto a cosa però? rispetto all'intero frame quindi se io volevo centrare un oggetto ecco che andavo a centrare verticalmente orizzontalmente lo centravo rispetto a tutto il nostro fotogramma la versione 2023 di premier pro permette di gestire l'allineamento di più oggetti contemporaneamente quindi io ho questi tre oggetti e ipotizziamo di volerli allineare anche questi e metterli tutti e tre al centro del frame come abbiamo fatto prima quindi esattamente in questo senso non è cambiato nulla i tre oggetti sono al centro rispetto al fotogramma la novità della versione 2023 di premier è che sono state aggiunte altre due modalità di allineamento vale a dire allinea al frame del video come gruppo quindi in altre parole se seleziono questa voce i tre oggetti quando andrò ad allinearli verranno allineati come un unico grande oggetto ok? quindi in questo senso io ho allineato i tre oggetti considerandoli come fossero una cosa sola oppure l'ultima voce è allinea alla selezione in altre parole io ho selezionato tre oggetti e posso volerli allineare tutti a sinistra in base a cosa? in base all'elemento che si trova più a sinistra quindi se io vado ad allineare tutto a sinistra tutti gli oggetti andranno ad allinearsi chiaramente prendendo come riferimento l'oggetto più a sinistra oppure voglio allinearli in alto chiaramente il riferimento sarà l'oggetto che è più in alto quindi la lettera W clicco su allinea in alto e vedete che anche gli altri due oggetti verranno allineati in alto rispetto all'oggetto che comunque si trova più in alto rispetto agli altri questa è una novità introdotta nella versione 2023 di Adobe Premiere Pro ci sono altre novità? sì ovviamente c'è la possibilità di gestire più elementi grafici contemporaneamente in timeline ma le novità più interessanti riguardano le anteprima che sono state ottimizzate sia in Windows che in Mac utilizzando il codec ProRes 422 fine altre grandi novità in realtà non ci sono sì ok c'è il supporto di nuove fotocamere c'è il supporto di nuovi codec migliorie quelle sicuramente tutte cose che comunque di default noi non vediamo ad occhio nudo come si fa ad aggiornare Premiere Pro all'ultima versione? bene sul sito www.fammiabrosi.it c'è una guida pratica che potete seguire per aggiornare Premiere all'ultima versione disponibile se non sapete farlo se siete già pratici ecco dovete procedere come già sapete fare il mio consiglio è di aggiornare a quest'ultima versione se la versione 2022 vi dà dei problemi quindi probabilmente questi problemi potrebbero essere stati corretti in questa versione diversamente se utilizzate Premiere in produzione il mio consiglio è aspettate un paio di mesi perché magari da adesso fino a Natale si scopriranno alcuni bug della versione 2023 e sicuramente verranno rilasciate delle micro versioni intermedie 2023.01.02 che andranno a correggere gli errori verso Natale così potete tranquillamente passare alla versione 2023 non essendoci degli strumenti o delle funzionalità particolarmente rivoluzionarie il mio consiglio è di aspettare un'ultima cosa che non abbiamo detto che però ripeto riguarda più le performance che altro è la gestione degli oscilloscopi in altre parole quando andate a fare la color correction come sicuramente voi sapete ci sono questi strumenti che sono gli oscilloscopi strumenti preziosissimi che ci permettono di vedere quello che noi stiamo facendo ok ecco se utilizzate questi oscilloscopi noterete probabilmente un miglioramento nelle prestazioni perché dalla versione 2023 in poi gli oscilloscopi utilizzeranno la GPU quindi la vostra scheda grafica per lavorare quindi prestazioni leggermente migliorate fine se non sapete utilizzare Premiere volete imparare come funziona questo software meraviglioso io vi consiglio di abbonarvi a questo canale YouTube c'è un corso veramente lungo e completo di 80 lezioni il costo dell'abbonamento è di soli 3 euro al mese quindi credo che un 3 caffè al mese possiate offrirmeli per quel corso c'è anche il corso di After Effects se invece volete partecipare a dei corsi live su Skype o Zoom a distanza ma comunque live per imparare ad utilizzare Premiere però in maniera classica tradizionale quindi con delle lezioni tradizionali inviatemi una email ad info chiocciola fabbiamrosi.it e vi darò tutte le informazioni per partecipare a questi corsi il prossimo dovrebbe iniziare a breve non so ancora bene quando credo nei primi di novembre 2022 se capitate su questo video in futuro non vi preoccupate perché ciclicamente nuovi corsi si vengono programmati quindi inviatemi una mail se avete voglia di saperne di più registratevi comunque a questo canale a me aiuta tantissimo e vi ringrazio davvero tanto buon proseguimento di giornata ciao ciao